Hanno portato l'arresto di un 29enne Valchiavennasco le indagini condotte dai carabinieri dopo i gravi fatti accaduti la notte del 17 luglio vicino a un locale pubblico di Chiavenna. Al culmine di un'aggressione prima verbale poi fisica un uomo era stato sfregiato al volto con un coltello. 15 giorni in la prognosi, feriti i due amici che erano con lui impegnati nel separare i contendenti. Avano riportato lesioni guaribili in 10 e 5 giorni. In queste ore i carabinieri della stazione di Chiavenna assieme ai colleghi di Villa di Chiavenna hanno eseguito l'ordinanza di misura cautelare in carcere disposta dalla giudice per indagini preliminari del Tribunale di Sondrio. Aggressione si legge una nota diffusa dall'arma motivata anche da ragioni di discriminazione. I tre amici sono stranieri che vivono in Valchiavenna. Il 29enne è stato accompagnato fino alla casa circondariale di Sondrio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie a tutti.